I casi di Teresa Battaglia, siamo alla seconda stagione, Elena, quindi innanzitutto la prima è stata un successone, ma secondo me perché si discostava un po' dalle serie classiche della RAI, è vero che c'è il suo ispettore come serie e tutto quanto, però ci sono serial killer, ci sono fantasmi, diciamo così, insomma c'è un po' tutto quanto un qualcosa di più dark rispetto alle altre serie. Sì, più che fantasmi ci sono serial killer che sembrano mostri ma che sono reali, quindi sì, effettivamente si discosta parecchio dagli altri crime ed è la ragione per cui poi alla fine ho scelto di farlo, perché inizialmente quando mi hanno detto c'è un commissario, no, mi hanno detto perché no, basta, ce ne sono di meravigliose in giro per la RAI, ma perché anche me, e invece questa era molto diversa, erano diverse le storie, erano molto più forti e soprattutto c'era bisogno. Intanto ogni serie è un romanzo, è un caso, quindi mi piace dire che siano dei film in tre serate, perché è un film e quindi dà molta più possibilità di approfondire i casi e di fare sì che Teresa Battaglia, che è una profiler, quindi è una poliziotto, sì, ma che studia i profili psichiatrici dei serial killer, quindi è una che indaga la mente e una che indaga la mente, la può indagare come lei ed empatizzare come lei perché lei ha mostri, demoni e ferite che se la portano via, perciò può comprendere i serial killer, perciò può capire quel caso che ad altri sembrerebbe già risolto così facilmente. Questa è la cosa che mi ha fatto amare Teresa Battaglia ed è la ragione per cui io poi ho scelto di fare questi film. Il successo dell'altro anno è stato inaspettato e clamoroso e sto zitta per quest'anno, però di buono non ci mollate, ecco, spettatori. Infatti, e in questa seconda stagione tutto ruoterà intorno ad un quadro dipinto anche con sangue umano, lo possiamo dire, diciamolo, e quindi raccontiamo un pochino anche come sarà questa evoluzione in questa seconda stagione dove Teresa continuerà a combattere anche con i propri demoni e le proprie malattie, tra l'altro. Sì, lo farà al punto che affiderà anche perché arriva Albert Lona, che è un nuovo personaggio, che capiamo che c'è un'antichissima ruggine con Teresa. Quindi un po' perché non vuole avere a che fare con Lona, un po' perché sente che sta perdendo colpi, affida l'indagine a Marini. La carta poi lo fa a pezzi perché chiaramente lei non è che può tenersi alla larga da questo, quindi vessato dalla prima montata, chiaramente come abbiamo imparato ed è la parte anche divertente. Poi vedremo che anche Marini ci avrà a che fare con i suoi bei demoni, scopriremo un lato di Marini che non ci aspettavamo, con il quale Teresa si scontrerà, che tirerà fuori proprio per quelle sue capacità. Quindi aumentano i piani dell'indagine su tutti i personaggi. E il quadro ninfa dormiente, appunto, che si chiama, che è stato dipinto anche con il sangue, è quello grazie al quale capiamo che c'è da fare un'indagine mostruosa che arriva al 45 e che i morti sono tantissimi e chissà che fine hanno fatto e chissà chi li ha uccisi come e perché. E quindi è veramente un caso difficilissimo che inizia con una morte improvvisa ai titoli di testa ed è grazie a quella morte che andremo a cercare nel passato. E quando si cerca nel passato si cerca anche nel proprio di passato, no? Eh, eh, ne esce di roba! E tra l'altro voi avete girato in friuli sulla neve, almeno 14. Raccontaci anche qualche brutta esperienza sulla neve che avete avuto, insomma. No, il freddo non si può raccontare. Guarda, abbiamo lavorato... Ecco, mi piace raccontare questo episodio, non l'ho detto oggi, almeno dico qualcosa di diverso. Abbiamo girato anche nelle trincee della guerra, perché eravamo proprio al confine con l'Austria e la Slovenia. E mentre eravamo lì, ed eravamo tutto sommato felici di fare il nostro lavoro bello, che ci piace, anche se stavamo bereando di freddo, andava il pensiero a tutti quei morti in quelle trincee durante la guerra. E temo che nei mesi in cui abbiamo lavorato noi non siano morti di guerra. Quelli sono morti di freddo e di stenti. Allora lì sentivamo un po' meno freddo. Senti, e invece per il futuro hai il film di Ospedec Diamanti e Ballando con le stelle. Quindi, cioè, un po' due estremi quasi, no? Ma il nostro lavoro è fatto di... È bello variare. Di follie, di cambiamenti, di cose. No, io sono contenta di finalmente dare una soddisfazione a Millie Carlucci, che è una cara amica e che sono anni, che mi chiede di andare a Ballando. E ogni volta non c'ero, c'evo qualche... ce n'avevo sempre una. Quest'anno non ho potuto esimermi. È però attenta, perché la Pellegrini l'ha corteggiata a 14 anni e alla fine l'ha convinta. Quindi magari chissà che... No, adesso non esageriamo quello. Pellegrini è una grandissima campionessa. Ed è tra l'altro molto carina, perché io sono andata a fare le prove questi giorni passati. Ho incontrato quasi tutti loro, che è un gruppo bellissimo. Si vogliono tutti molto bene, è bellissimo. È stato molto carino essere là. Ma no, no, io volentieri vado a fare il ballerino per una notte, perché quest'anno mi sono veramente anche molto divertita. Sono stata anche molto fortunata, perché mi hanno dato come maestro Moreno Porcu, che è una delizia di persona, e ha fatto una coreografia bellissima. Ne abbiamo parlato. Io ho scelto una canzone di Erma Almeta, che è un amico caro, che è piccola anima, che è una canzone che sento molto vicina. Infatti l'ho chiamato e gli ho detto guarda che vorrei fare questa cosa, la faccio sulla tua canzone. E quindi con lui, con Moreno, abbiamo fatto una coreografia di contemporaneo, sostanzialmente un po' contaminata, per raccontare le nostre piccole anime, che però non sono poi così piccole sempre, come sembrano. E Diamanti invece? Diamanti, la mia, è un piccolo cameo che ho fatto per Ferzan. Era un film tutto di donne. È un film che lui ha dedicato a molte di noi che abbiamo lavorato con lui, è un atto proprio d'amore che Ferzan ha fatto nei confronti di tutte le donne, in particolare di molte di noi che avevano il tempo per poter partecipare a questo film, perché non tutte le sue attrici hanno potuto partecipare, perché alcune lavoravano. Io ho potuto farlo poco, però quel poco molto bello, quindi sono molto grata a Ferzan. E soprattutto sono grata per aver dedicato a noi attrici, a noi donne, un film. È che c'è poco spazio per le donne, e lui è forse il regista che più di tutti ci dedica tanto spazio, è molto bello. E in chiusura, visto che c'è in questi giorni la festa del cinema, l'altra sera c'è stata la premiazione della vostra associazione Unita, dove tu non hai partecipato, una specie di sag, no? Quello è stato proprio un grande dolore, non essere lì l'altra sera, ero a Merano, figuriamoci, lo sanno tutti, perché erano le mie storie in Instagram. Però tu sei una delle soci fondatrice, diciamo, no? Sì, 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 in lockdown eravamo, che facevamo di tutto. Tra l'altro oggi, 24 di ottobre, sarebbe la giornata nazionale dei lavoratori dello spettacolo. Fu fatto un disegno di legge, che non è più stato considerato, però oggi lo ricordiamo, in qualche modo farò un post, un ricordo sulle mie storie. Speriamo nel futuro di poterlo ricordare meglio questo giorno. Tutto è nato insieme, io ho sostenuto Unita tantissimo, e veramente, ecco, non essere lì l'altra sera mi è tanto dispiaciuto, non essere vicino a Vittoria Puccini, che è una formidabile presidente della nostra associazione, ed è stato molto bello vedere premiare attori e attrici, su tutte, Elena Gigliotti, che è un'attrice clamorosa, io ho fatto molto il tifo per lei, e perché vincesse questo premio sono stata tanto felice, senza niente togliere a tutti gli altri, anche a Chiara Noschese, cioè attrici che magari non hanno la possibilità di farsi vedere o conoscere tanto nelle altre accademy, dove non sempre chi è nell'accademy si guarda tutti i film. Ecco, Elena Gigliotti, Chiara Noschese, vabbè, è un'attrice eccezionale, famosissima, ma Elena Gigliotti ha fatto un bellissimo film, si chiama L'invenzione della neve, dove ha fatto forse una delle più belle interpretazioni di quest'anno, a mio avviso doveva stare anche in tutte le cinquine dei Davide, dei Nastri, eccetera, eccetera, e quindi unita, perché noi siamo attenti ai nostri colleghi, e quando c'è tanto merito, e credetemi, nel nostro campo ce n'è tanto, c'è una quantità di attrici e attori fenomenali. Ecco, sono contenta, lo dico per le due donne, e anche chiaramente per tutta Palazzina Laf, per tutti loro che hanno vinto, ma avevano già vinto da Avide, eccetera, invece Elena Gigliotti e Chiara Noschese no, quindi sono tanto contenta, e brava Vittoria Puccini, che è veramente una grande presidente. Perfetto, e allora appuntamento per il Terrasa Battaglia. Lunedì 28, martedì 29, lunedì 4. 4, ho fatto a 3, è fantastico, sì. È la terza puntata. Sì, certo. 4 novembre, e vi interrogo sui social poi. Grazie e complimenti per tutto. Grazie a voi.